Sì, sì, ce l'ho avuto a lanciare. Autopistico Cegarini, chiedo o no? Ma che bello! Chiedetelo! Ma io non ci sono! Ma io non ci sono! Ma io non ci sono! Che bello! Dai, torniamo! Quindi... 3H1 Difesa, centrocampo, Monachello davanti... Com'è? No, aspetta però! Monachello davanti! Chi... Chi se ne va? Ma siamo di genere! Ma almeno non abbiamo un direttore scottivo! Cioè, l'abbiamo contato con il mister già! Ma fa un po' di show! Nooo... Si se ne va, se ne va! Mister, chi va? Ma non è che l'ho avuto! 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 Allora, giustamente! Un po' di scherza!